Siamo qui alla concessionaria Diba in via Flaminia a Rimini per presentare il nuovo Nissan Qashqai racconteremo il successo della partnership tra Diba e Nissan e il legame che unisce Diba al Misano World Circuit un viaggio di storie, successi e valori condivisi scopriamoli insieme Noi rappresentiamo circa 21 marchi in quattro province provincia di Macerata, di Rimini, di Pesaro e di Ancona Nissan la rappresentiamo da settembre 2003 esattamente è un marchio che come l'abbiamo preso abbiamo avuto subito un grande successo è stata una bella esperienza poi negli anni piano piano siamo cresciuti siamo riusciti ad ottenere sempre una media sia col cliente che con la casa una media di rapporti molto buona ancora oggi devo dire che siamo stati premiati dalla casa e ci hanno autorizzato anche un mandato su Rimini noi qui a Rimini abbiamo diversi locali ma questo che abbiamo messo a disposizione della Nissan è uno dei più belli in un posto più centrale e devo dire che oggi è qui con noi il presidente con il suo staff e ci hanno fatto i complimenti Rimini per noi è una città interessantissima interessantissima ma soprattutto questo locale interessante pensate che io quando ero concessionario NSU Prince io passavo qui con una prinzettina con 5-6 persone, 7 dentro andavo a Padova a ritirare le macchine nuove e tornavo a Pesaro vedendo questo stabile mi chiedevo chissà un giorno se potrò comprarlo e quel giorno è arrivato e oggi siamo felicissimi che questo giorno si è veramente manifestato per la nostra famiglia per il gruppo che rappresentiamo una gran bella cosa che ci dà delle soddisfazioni immense ma è soprattutto la città che ci dà soddisfazione perché noi vendiamo qui tante macchine e le assistiamo bene anche per cui abbiamo delle officine qui da noi attrezzatissime, organizzatissime dei locali accoglientissimi macchine sostitutive quindi uno che entra dentro in officina ha sempre una macchina sostitutiva se il cliente vuol comprare una macchina e prima la vuol provare ne ha sempre una nuova targata che può provarla il personale nostro è continuamente alla ricerca di un qualcosa che può dare prima degli altri o meglio di altre persone o di società e quindi siamo contenti e piano piano anche su Rimini stiamo crescendo e come vedete oggi pomeriggio insieme alla presidenza della Nissan Italia con tutti i suoi staff inauguriamo proprio questo marchio Nissan che noi già rappresentiamo a Pesaro e che rappresenteremo anche qui sicuramente con grande soddisfazione grazie a tutti grazie a tutti siamo all'inaugurazione della nostra nuova sede di Rimini e per una cerimonia di questo tipo non potevamo che portare dei regali il primo regalo che portiamo è il nostro modello di punta Qashqai che è al lancio della sua minor change la terza generazione il prodotto che ha cambiato il mercato dell'auto da quando nel 2007 lanciammo Qashqai non esisteva il segmento di crossover oggi è il segmento più venduto in Italia quindi è il nostro regalo alla concessionaria è il nostro regalo al mercato italiano l'anno scorso Qashqai ha mantenuto la sua posizione di numero uno nelle vendite a cliente privato arriva con diverse novità di prodotto e mantenendo un po' una delle esclusività che ha già caratterizzato il successo dell'attuale versione che è la motorizzazione e-power oggi in un mercato che si va elettrificando ancora di più che per un po' scettico verso l'elettrico la soluzione e-power che è una tecnologia esclusiva Nissan è quella che noi chiamiamo elettrico senza spina è una vettura che ha due motori un motore 100% elettrico che è l'unico che muove l'auto quindi sia alle basse che alle alte velocità e un motore a benzina che non fa nient'altro che da generatore di corrente quindi riceve benzina la converte in corrente e ricarica la batteria quindi è una soluzione tecnologicamente solo di Nissan che dà un grossissimo vantaggio al consumatore perché fa più di mille chilometri con un pieno quindi in un periodo in cui i consumi sono importanti questo è assolutamente fondamentale ma gli toglie l'assilo della ricarica alla colonnina quindi non deve cercare una colonnina cerca il benzinaio fa il pieno mille chilometri con un pieno e viaggia assolutamente in modalità elettrica vuol dire piacere di guida silenziosità e scatto questa è la soluzione che ormai i clienti hanno scelto per più della metà delle vendite di Qashqai ed è sicuramente uno dei pilastri del successo di Qashqai l'altro regalo che portiamo alla concessionaria è il lancio di un altro programma rivolto ai clienti che ci permette di differenziare dalla concorrenza che è l'estensione fino ai 10 anni di garanzia gratuita per i nostri clienti noi stiamo a una garanzia di base di 3 anni e questo mese stiamo lanciando questo programma che si chiama Nissan More consente al cliente che decide di continuare a fare la manutenzione regolare presso la nostra rete ogni anno che viene a fare la manutenzione riceve un anno di estensione di garanzia gratuita può scegliere di farlo fino a 10 anni di vita della sua vettura è un servizio gratuito che impatta sulle principali componenti del veicolo come motore cambio e che ha l'obiettivo di trattenere il cliente verso le nostre officine perché no vendere una prossima Nissan e deve essere anche un ottimo strumento di vendita per i consulenti alle vendite che invece di vendere il classico sconto vendono un servizio perché è un servizio completamente gratuito che sicuramente ha un valore percepito importante per il cliente parliamo di circa 2000 euro di servizio completamente gratuito Siamo molto contenti di essere stati invitati a questa inaugurazione il rapporto che abbiamo con Diba è nato due anni fa stiamo spengendo tanto nel processo di trasformazione del circuito questo è stato possibile grazie alle connessioni fatte col territorio e Diba è un grande gruppo del territorio e oggi presentiamo una marca importante come Nissan la Cascais nuovo modello e mi piace ricordare come la prima edizione di Formula E Nissan ha avuto il gran premio per il cliente